Davanti a noi Sous & Hulks. Il meteo oggi è un po' imbronciato ma la temperatura è ideale per la salita, vero Silvano? Il fondo è discreto e la pendenza fino ad adesso è ancora abbastanza tranquilla. Arriviamo in punta aggiornante e vediamo l'Alta Valle Susa, ecco laggiù lo shabberton oggi è coperto ed ecco laggiù Ulzio. Alla prossima rampa.